In un modo o nell'altro abbiamo iniziato a collaborare chi dà più tempo chi dà meno tempo l'uno con l'altro e quindi sarà anche l'occasione per far esaltare questa cosa, questa unione. D'altra parte la musica è condivisione prima di tutto e quindi questo sarà sicuramente un punto di forza anche della parte dello spettacolo della sera. Come diceva Nico, noi ci eseguiremo una mezz'oretta a testa, quindi garantiremo un'ora di spettacolo ed eseguiremo anche dei pezzi in simbiosi, in collaborazione l'uno con l'altro sia in vista di collaborazioni future che di collaborazioni che ci sono già state tra di noi. Aggiungo solo una cosa, per quanto riguarda invece lo spazio del pomeriggio, l'iniziativa molto bella, molto rodevole infatti questo è un altro motivo per il quale ho accettato subito la proposta di partecipare e anche perché come diceva Nico gli spazi sono sempre meno e occasioni come queste sono assolutamente da valorizzare e da promuovere con tutte le nostre forze.